salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volo all'alba col dji fpv adesso sto camminando sulla spiaggia perché sono le sei e mezza del mattino perché appunto ci tenevo a fare un video in questa località stando sulla spiaggia però ovviamente di giorno è improponibile per la quantità di gente che c'è mentre a quest'ora sono le sei e mezza del mattino e vedete che non c'è praticamente nessuno e in più a quest'ora ragazzi si hanno dei colori del sole e del mare veramente incredibili quindi direi che la location merita sicuramente cercherò di fare delle riprese nella parte appunto della spiaggia in cui è interessante fare col dji fpv e spero ragazzi di riuscire a tirare fuori davvero qualcosa di buono con questo fantastico drone di casa dji se il video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anteprime voli in fpv stampe 3d seguitemi quindi se vi va anche lì e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale tiriamo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e prepariamo tutto per decollare col dji fpv ok ragazzi ci siamo sono le sette del mattino il dji fpv è pronto l'alba ormai è già passata da un pochino ma siamo proprio quando il sole è quello bello quando è appena sorto quindi le immagini e riprese video fatte con lui dovrebbero avere sicuramente un effetto e un impatto davvero notevole quindi non mi resta che decollare grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.